Grazie a tutti. Buonasera, siamo a Incontri Festival, il quarto appuntamento di questa rassegna che abbiamo ideato con Luigi 5. Oggi è un appuntamento decisamente particolare perché abbiamo Antonio Bido Canella con i suoi Atti Poetici Oracolari. Cosa sono gli Atti Poetici Oracolari? Sono degli stati alterati di coscienza, è un modo per rievocare il nostro irrazionale, quello che da sempre noi abbiamo dentro di noi, ma che probabilmente abbiamo un po' dimenticato o che dobbiamo tornare a risuscitare, diciamo così. Una storia antichissima, una storia appunto oracolare, una storia potrei dire millenaria. Io mi sono imbattuto in questo straordinario personaggio quando abbiamo realizzato vita d'artista qui da in cinque monti ed è stato un incontro unico, un incontro incredibile. In questa galleria d'arte abbiamo avuto la fortuna di incontrare questo moderno oracolo che viene da lontano. La poesia prima della scrittura, una poesia prescritta in qualche modo, che esiste da sempre. Lo spettacolo a cui assisterete in realtà è molto semplice, voi siete collegati nella pagina Facebook di Tinerari Festival e avrete la possibilità di interagire in qualche modo con l'oracolo, avrete la possibilità di domandare all'oracolo quello che vi va di domandare e lui vi regalerà degli atti poetici, degli atti poetici oracolari che voi dovrete vivere quindi come un regalo fondamentalmente. Abbiamo tutti bisogno di risposte alle nostre domande, forse abbiamo bisogno di domande alle nostre risposte. Allora io andrò piano piano a leggere, a interagire con quelle che sono le vostre richieste e ci saranno anche delle musiche che poi sono una sorta di tappeto preparatorio di questa performance di Antonio Bilo Canella. Prima di entrare però nel mondo straordinario di Antonio Bilo Canella io vi chiedo di chiudere gli occhi per un attimo e di immaginare che questa galleria sia in qualche modo l'antro di Delfi, sia il tempio di Delfi, sia l'antico tempio, l'antico tempio greco e siamo indietro quindi di tanti, di tanti secoli. Nei suoi giorni gloriosi e anche nella decadenza, Delfi si presentava in modo opposto a ciò che l'Ottocento elenizzante ha definito come spirito classico. Era un emporio, una selva di trofei, un sepolcreto. Il suo principio formale imponeva l'ammasso. Scudi e polene dedicate dai vincitori militari, lire, tripodi, carri, tavole di bronzo, vasche, patere, calderoni, crateri, spiedi. Questo si offriva allo sguardo nel megaron del tempio di Apollo. Quella sala, da cui si accedeva il vano della pizia, era ingombra di oggetti appoggiati ai muri, ai fusti delle colonne appesi al soffitto. Ciascuno di questi oggetti era un evento, il compendio di una vita, spesso di molte vite e molte morti. Per aria sospese si muovevano appena se un soffio si insinuava dall'esterno. Ruote di carri leggeri e, come tenui flabelli, oscillavano bende e fasci di atleti. Ecco, questa è l'immagine di quello che era il Tempio di Delfi, ormai sembra quasi milioni di anni fa. Lo vediamo presente, lo vediamo veramente davanti a noi, evocato dalle parole di Roberto Calasso in questo libro straordinario, che sono le nozze di Cadmo e d'Armonia. Da questo viaggio inizia l'atto poetico oracolare di Antonio Bilo Canella. Voi che ci seguite dovrete dare un numero, ma questo molti di voi già lo sanno, perché Bilo ha molto seguito. Infatti vedo che la pagina è in vasa di messaggi di amici, di amiche che rivolgono le loro domande al nostro oracolo. L'oracolo oggi è qua, è tutto per noi. E questo è un privilegio, secondo me, immenso, un privilegio raro che possiamo avere. Dovrete dare un numero da 1 a 16. Questo numero corrisponde ad una musica, ad una musica evocativa, ad una musica ancestrale, ad una musica antica, ed è in qualche modo il tappeto sonoro, il tappeto magico che ci conduce nel mondo dell'oracolo. Poi riprenderemo la descrizione di Roberto Calasso dell'antico Tempio di Delfi. In fondo questa galleria è un tempio, è una galleria che risale al Medioevo, queste colonne che voi non vedete ma che io vedo davanti ai miei occhi. E allora c'è Nadia che dice la numero 15 come numero, la numero 15. E dice una cosa forte, fiorire, fioriti, senza scampo. E questa è la sua domanda al nostro oracolo Antonio Bilo Canella. E questa è la sua domanda al nostro oracolo Antonio Bilo Canella. E questa è la sua domanda al nostro oracolo Antonio Bilo Canella. E questa è la sua domanda. immaginare la salvezza, no, non posso, che ha il vento che, ha il vento che sta, ha il soggetto, è la mia trasformazione, appartiene al tempo, tutto appartiene al tempo, ho ignorato le strade del Signore e adesso vedo la vela, la vela, la vela, oh, oh, madre, 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 che il tempo si è fermato su dei petali, oh, 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 è risorto colui che viene, appare lo spazio, la porta, il gesto, episodi di luce e... quanto, quanto abbiamo pregato affinché si stendesse il divario delle montagne, lacrimavamo ciottoli sulle nostre piaghe, avevamo ascoltato fin troppo i segni della pelle che si scioglievano in frecce aguminati e il tuo petto, il tuo petto accogliere il sangue. petalo di luce io ti suggo la mattina e la sera mi addormento speranzoso, ecco che avviene l'epifania. eri di là, eri di qua, eri sopravvissuta. il gesto che vuoi offrire, la carne aperta, l'episodio della tua vita scritto nelle pietre antiche, eppure la mia carne ancora getta sangue, ancora la mia carne mi rimbalza dentro il cranio, è un letargo insopportabile. possiamo aprire, possiamo, possiamo aprire, possiamo aprire, possiamo aprire, possiamo giocare col nostro fato. , io, 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 non lo so, non, non lo so, non lo ricordo, non lo so, non lo so e su, sopravviene, e...pira te, e mira in te bianco! madre 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 quante carezze quante carezze sono piovute sopra la tua pelle quanti gesti quanti gesti inutili nello spazio tempo io conosco le strade prevengo ciò che sarebbe dovuto avvenire comunque io ti ho donato la mia virginità adesso amami 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 Troppa gente, troppa gente a guardare, troppa gente, troppa gente. Troppa gente, troppa gente, troppa gente. La scienza possono incutere curiosità, possono incutere terrore, possono incutere comicità, possono incutere emozione. Tante sono i sentimenti che scatena questa performance che non è mai la stessa, che è sempre diversa. Bilo non sta recitando un testo, non sta recitando a memoria. Bilo rievoca dal suo animo quella che è una poesia ancestrale, quella che è una poesia primitiva, quella che è l'essenza in qualche modo dell'irrazionale, lo scatinamento delle forze razionali contro la meccanica quantistica, contro tutto ciò che c'è in qualche modo di codificato, di scritto, di prescritto. Torniamo nell'antro di Delfi, prima di tornare alle vostre domande, che sono tantissime, e sono tutte straordinarie, sono poesie fatte domande, potrei dire. Però voglio ricreare ancora un momento di atmosfera, anche se non ce n'è bisogno, perché siamo già nell'antro. Entrando nel tempio di Apollo a Delfi, frastornati dalla moltitudine di corpi metallici sporgenti e luccicanti nell'ombra, si poteva distinguere talvolta sul fondo il busto di una donna, e a lungo fu una giovane donna, che sembrava crescere dal pavimento, portava il semplice peplo usato dalle ragazze del paese. Era la pizia, appollaiata sul tripode, come sullo sgabello di un bar, seguiva con lo sguardo i nuovi venuti, mentre si affacciavano sul megaron. Rispetto alla sala del tempio, il vano della pizia, l'aditon, era piccolo e più basso di poco più di un metro. Lì accanto c'era una cabina con una panca, dove sedevano i consultanti, e non potevano vedere la pizia, mentre vaticinava, circondata dai suoi oggetti sacri. L'alto tripode fissato al pavimento, sopra una spaccatura del terreno, la pietra umbilico avvolta nei fili di una doppia rete, lo zoccolo della tomba di Dioniso, una statua aurea di Apollo, un albero di alloro, che prendeva poca luce dall'alto, un filo d'acqua che scorreva dietro di lei. Ecco, io ho il ruolo del profetes, cioè colui che purge all'oracolo le domande. Questo ruolo che aveva anche Tiresia, lo dico con il sorriso sulle labbra, nei confronti della pizia, perché il consultante dovete sapere che può mutare il corso del destino, può interpretare la domanda, può modificarla, ma non lo farò, perché le vostre sono così forti, così belle, che non posso assolutamente cambiare il corso del destino, delle vostre domande. E allora Rosemary dà un numero, caro Bilo, dà un numero, caro oracolo, che è il numero due, il numero due, il numero due di Rosemary. E Rosemary chiede all'oracolo, gioca a dadi con i sogni degli altri. Questo chiede Rosemary all'oracolo. Oh, non vado, oh vado. Non posso avere lo spazio, non devo gettare, dove tutto è sporco. Non posso azzardarmi a entrare dentro questo spacco purulento. Portami, portami tutto, portami tutto, lo lancerò lontano. Portami, portami tutto, lo lancerò lontano. Le abbiamo viste, le locuste, come erano tristi, con le ali spianate e il loro vestito di strass. Domani voglio comprare una bicicletta usata. Devo andare a recuperare tutti gli strani esiti. Li ho scritti nella mia pelle. Domani si apre il mercato e c'è poco che io possa fare. Aprire le tende, aprire le tende, aprire le tende. Oggi ti ho vista. Eri tutta nuda. Pora, porgevi il tuo seno nella coppa della mano. Ho bevuto come un cammello e ho lasciato che la pioggia dorata mi riempisse. Eri. Ah, il seno delle donne. Il seno delle donne. Tutto quello che potevi fare, ora l'hai fatto. Mi senti. Mi senti. Posso raggiungerti. mi senti. Ho bisogno di baciarti. Mi senti. Dov'è la tua carne? Ho bisogno di toccarti. Mi senti. Dov'è la tua carne? avremo un figlio io so già che il vento non mi raggiungerà stasera l'acqua che hai versato alla fine sarà raccolta hai dipinto il tuo destino io lo vedo infiniti frammenti infiniti frammenti appare d'improvviso come se tu non avessi capito il perché la materia si condensa appaiono dei cerchi e dentro il cerchio un'altra sfera e poi degli anelli è così che io mi riproduco è così che improvvisamente la tua faccia si scioglie sul mio petto pesantemente riconosco l'orpello lo cancello riscrivo col gesso le profezie antiche ora saranno carne e vento e saliva spudata abbi il coraggio che io non ho avuto abbi il coraggio che io non ho avuto non ho avuto non ho avuto l'orpello e non ho avuto non ho avuto Posate a pesce nell'aria. Mangiano corpi disfatti e poi tutto finisce. Grazie per la visione. Sono mondi generati all'improvviso. Sono mondi che non possiamo controllare. Sono mondi generati all'improvviso. Sono mondi che non possiamo controllare. L'emozione ci travolge in qualche modo. Quello di Antonio Bilocanella è una ricerca oracolare, una ricerca secolare, potrei dire. Gli atti poetici li potete vivere in vari modi. Li potete considerare un atto artistico to cure, un atto artistico creativo in toto. Lo potete considerare come un regalo, qualcosa che vi viene donato. Ne potete fare quello che volete. Jodorowsky aveva pensato alla psicomagia. Molti seguivano le sue conferenze. Questa è un'altra cosa. Qui siamo in un mondo parallelo, in un mondo che scatena, diciamo, appunto le nostre più profonde tensioni. Possedute dal Dio parlavano in versi impeccabili. E sue donne e le sue figlie vaticinanti dovevano rivelare il verso. Non solo gli enigmi del futuro, la poesia si presentò come la forma di quelle parole ambigue che i consultanti chiedevano per decidere della loro vita e di cui spesso capivano il significato, solo quando i fatti erano già avvenuti. Per loro non sussisteva un'incompatibilità che è ovvia per i moderni, quella fra possessione ed eccellenza formale. Quindi tutto era unito in qualche modo. Apollo e Dioniso passeggiavano insieme. Il Tempio di Delfi vedeva queste due figure. Il dissidio, la dicotomia non esistevano. Era tutto un insieme. Ed è per questo che il lavoro di Milo Canella torna all'essenza, torna a ciò che siamo stati, a ciò che eravamo. E le vostre domande sono tante, sono bellissime. Non posso leggerle tutte. Il vostro amico consultante non può leggerle tutte, perché dovremmo stare una giornata intera qui. Però sarebbe bello stare una giornata intera con un oracolo, a sentirlo. Entrare in trance e portarci in un'altra dimensione. La traccia numero dieci, la traccia numero dieci, che mi sembra una rinascita, come una metamorfosi. Ancora un'amica. Diamo voce alle donne oggi, in questo nostro incontro oracolare, in questa puntata. Al cuore della poesia, un'altra poesia. Il colibri si sveste delle scaglie. Questa è la domanda per il nostro oracolo Milo Canella. Questa è la domanda per il nostro oracolo Milo Canella. Questa è la domanda per il nostro oracolo Milo Canella. Questa è la domanda per il nostro oracolo Milo Canella. Questa è la domanda per il nostro orale Letta e cost'ì Amo, amo, dillo a Mau, mamù, 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 mamù. Oggi ho sospeso delle bambine sul fiume. Le ho guardate sgocciolare piano piano. Mi si era aperta la testa e vedevo fiorelli sospesi sopra il petto, glabro, evanescente. Pescale oggi, pescale oggi, pescale oggi. Non abbiamo, non abbiamo lasciato l'offerta. Non abbiamo lasciato l'offerta. Non abbiamo lasciato l'offerta. È troppo tardi. Le scarpe sono rosse. Il mio vestito è lacero. E loro continuano a sgocciolare come aria densa. Ti ho chiamato ogni sera. Ti ho chiamato affinché il tuo canto si avvicinasse. Ti ho chiamato affinché emergesse la verità. Dal tuo lungo becco cadevano proposte oscene. Io immaginavo universi alternativi, ma ero troppo piccolo con le mie scarpe rosse. Perché l'hai fatto? Perché sostieni il peso del futuro sulle tue ginocchia sbucciate? Avevo bisogno delle tue parole. Avevo bisogno dei tuoi occhi. Ma adesso ricordo tutto. Ricordo. Adesso ricordo. Non avresti dovuto. Il messaggio era chiaro. Non avresti dovuto. Tutto ciò che si rallenta è un peso. Tutto ciò che si rallenta è un peso. Io non voglio i pesi. Ma loro continuano a scocciolare. Abbiamo creduto fin troppo. Fin troppo la nostra fede ci ha sostenuto. Fin troppo abbiamo pensato con il cuore. Fin troppo l'acqua è stata data agli indenni. Ma la mia mano adesso afferrerà quei corpi innocenti e li schianterà a terra. Perfetto. Ha-ha-ha-ha? Ma-ha-ha. Ami ha-ha-ha-ha. Ma-ha-ha-ha. Tutto quello che... Tutto quello che mi ha fatto... Adesso... Adesso... Non mi appartiene più. Le ricerche di Antonio Bilo Canella sono state in Tibet, sono state in Messico. La sua ricerca della parte irrazionale, dello scatenamento in qualche modo dell'inconscio, del recupero di questa sorta di forma di prescrittura, di prepoesia, di poesia ancestrale, di atto oracolare, come atto poetico, come atto d'arte, come donazione pura. Qualcosa che viene richiesto e che lui rievoca e ci regala è una lunga tradizione. I Ciacaruna, pensiamo a quelli che sono gli uomini ponte, coloro che in qualche modo fanno proprio da ponte tra la terra e il cielo. Ecco, lui viene da questa antica e nobile... In qualche modo schiatta da questa antica e nobile discendenza nelle sue ricerche, che sono sempre nuove, sono sempre diverse. Non c'è mai ripetizione. Io per primo sono stato scettico all'inizio, quando ho incontrato Bilo, e mi sono detto, devo capire, devo studiare di più questo straordinario personaggio. E poi mi sono reso conto che non c'è mai ripetizione. L'atto poetico è un atto unico, è un atto originale, è assolutamente opera unica. E per questo è un dono, e per questo è un regalo, è qualcosa che noi dobbiamo tenere stretto, perché rimanda ad altro e ci deve servire proprio da ponte. Sono tantissime le domande, le considerazioni, e sono tutte, devo dire, bellissime. Faccio fatica, mi scuso con coloro che non posso seguire, non posso fare da ponte per tutti, non posso assolutamente essere in qualche modo un traghettatore di desideri, di domande, di richieste. Però ancora continuiamo con la traccia numero 13, la traccia numero 13. Siete bravissimi perché avete perfettamente conoscenza e consapevolezza di questo spettacolo, che in questo momento è online, all'interno di itinerari festival, ma un domani sarà in teatro, sarà fisico, si potrà partecipare, si potrà ricevere l'atto poetico, si potrà toccare, no? In qualche modo, l'oracolo. E allora ancora una donna, ancora una figura femminile che arriva, Chiara, i maschietti mi dovranno perdonare oggi di questa mia debolezza da ponte. La traccia 13, rossa, sarà l'alba che ci sorprenderà a combattere. Questo chiede Chiara ad Antonio Bilo Canella, l'oracolo oggi. Avevamo tutto in mano e poi si è sparso. Avevamo tutto in mano e poi si è sparso. A raccoglierlo erano i nostri piccioni, sollevati dalle nostre braccia e lanciati in una folla ricostruzione. Avevamo tutto in mano e poi si è sparso. E' quando il tempo ti riporta lì, ai bordi di quel fiume dove tu avevi gettato tutte le tue speranze. Il grande pesce parla, il grande pesce parla, il grande pesce parla. Come potrei raccontarti un futuro diverso? Come potrei raccontarti del sangue versato, dei popoli, delle razze? Come potrei raccontarti delle spirali infinite, degli occhi sbranati, a guardare il tempo che passava e scavava, e scavava. Come potrei pensare diversamente e spegnere quella luce rossa sulla tua fronte. Ma poi il pesce parla, il pesce parla, il pesce parla. E noi stiamo lì ad ascoltare, mentre tutto va via, tutto si perde, tutto diventa catarsi, tutto diventa parola, tutto diventa assurdo. Io ho dato, io ho dato oggi, io ho dato oggi, io ho dato oggi. Domani non conosco nemmeno se sarò vivo, io ho dato oggi. E ho contato ogni singola alba sul tuo petto, mentre gli archi scorrevano, la gente cantava, e i canti che emergevano dai capezzoli turati d'immondizia, io ho dato oggi. Non posso pensare diversamente, non posso cambiare il fiume. E intanto il pesce parla, il pesce parla, il pesce parla. Ti porterò con me, lenta, lenta, ti porterò con me, lenta, lenta. E il pesce parla, il pesce parla. E il pesce parla, il pesce parla, il pesce parla. E il pesce parla, il pesce parla. Amén. 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 dal pianto, deponimi piano, 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 sollevami dal pianto, deponimi piano, piano, sollevami dal pianto, deponimi piano, 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 atto oracolare, come talassa, come atto curativo, come dono, come regalo, scatenamento della nostra parte inconscia, della parte irrazionale, abbandoniamoci con il nostro voglia di capire, il nostro destino. E allora pensavo a padre Tiresia, a Tiresia che va dalla Pizia, e insomma non dice proprio le cose che gli uomini vorrebbero che lui dicesse alla Pizia, ma cambia in qualche modo il racconto, inganna, inganna gli uomini. Non è un buon ponte, non è un buon messaggero. E questo in qualche modo è anche il gioco del destino. Vado per un momento, prima di tornare alle vostre domande, alle vostre infinite, tantissime richieste, devo dire straordinarie, a un testo che è quello di Friedrich Durem, ma la morte della Pizia, semplicemente quando lui alla fine è la ragione che è sconfitta di fronte al sentimento. E dice, addio Pannichis, non credere però che noi due ci perderemo, come io, che ho voluto sottomettere il mondo alla mia ragione, ho dovuto in quest'umida spelonca affrontare te, che hai provato a dominare il mondo con la tua fantasia, così per tutta l'eternità quelli che reputano il mondo un sistema ordinato dovranno confrontarsi con coloro che lo ritengono un mostruoso caos. Gli uni penseranno che il mondo è criticabile, gli altri lo prenderanno così com'è. Gli uni riterranno che il mondo è plasmabile come una pietra, cui si può, come uno scalpello, far assumere una forma qualsivoglia, gli altri indurranno alla considerazione che, nella sua impenetrabilità, il mondo si modifica soltanto come un mostro, che prende facce sempre nuove, e che esso può essere criticato, non più di quanto il velo impalpabile dell'umano intelletto possa influenzare, le forze tettoniche dell'istinto umano. E' la lotta tra Dioniso e Apollo, tra la ragione e il sentimento, tra il conscio e l'inconscio, fondamentalmente, la lotta tra Tiresia e la Pizia. Chi di due vincerà? Non lo sappiamo. Ce lo chiediamo da sempre. E le vostre domande forse raccontano anche questo, chiedono anche questo. E allora diamo ancora un numero, il numero 11, il numero 11, per Antonio Bilo Canella, che continua in questa sua missione straordinaria di rievocare la forma orale, la vera forma orale, la poesia orale, quella che nasce dall'animo profondo. e la domanda di Cecilia è questa. Miracoli aspettano cauti dentro cuori di pietra. e la domanda di Cecilia è questa. e la domanda di Cecilia è questa. la hai vista oggi, la hai vista, la hai vista, è questa era così sospita. ora, Ricordiamo tutto Tutti Ritornano Tutti sono Ritornati Qui attorno a noi Sono presenti Tutti sono presenti Si lasciano attraversare E ci guardano Talvolta la paura Li ferma in un sussurdo Ma ci guardano Ho raccolto tutte le loro testimonianze Le ho nascoste Le ho nascoste molto bene Sono all'interno Del mio vecchio cranio Posso sentire Il loro odore Ma poi Quando ci guardano Il tempo Gli canta una canzone E le mie parole Si fanno polvere Il tempo Canta una canzone E le mie parole Si fanno polvere Essi Ci guardano Non lo dimenticare Ci guardano Non lo dimenticare Ci guardano E sanno benissimo Tutto Abbiamo dovuto spezzare La pietra Abbiamo dovuto Spezzare La pietra E berci Tutto Il liquido Che fuorisciva Da queste Pieghe Del tempo Ma ricorda Essi Ci guardano Ci guardano Immobili Trasparenti Avessi Raccolto Le pietre Del tempo Te le avrei Donate Ma il tempo Era Impietoso E crudele Non c'era La rabbia Solo La testimonianza E la presenza Dobbiamo scavare Dobbiamo scavare Dobbiamo scavare 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 E ancora Scavare Lontano È il tempo In cui Non sapremo Dimostrare Le cose Ai nostri Fratelli È necessario Scavare 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 Se tu avessi sospeso Per un attimo Il tuo Gesto pesante Avremmo capito Che in quel distante In quel distante Si costruiva La scelta Del futuro Ed in quell'istante Che le scatole Si smembravano E i bambini Chiedevano E chiedevano Mi infilerò Dentro Quel buco E osserverò La civiltà Crollare È solo Una colonna Che sospende Il mondo E quando Tutto Sarà Finito Io Avrò La mia Pace Pescala Quella Mano Pescala Non lasciarla Affondare Il tempo Si strugge Il tempo Si strugge Loro Osservano Tutto Pesca Quella Mano Non lasciarla Affondare Io Io Scaverò 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 La piazza È vuota Oramai Sta recitando No, non sta recitando È qualcosa che nasce dal profondo Di una ricerca Ancestrale Di una ricerca Sofisticatissima Ma nello stesso momento Totalmente epidermica Antonio Bilio Canella È un oracolo E lo sta Dimostrando Siamo giunti All'ultimo Atto oracolare Il Tempio Di Delfi Chiude La galleria In cinque Va A spengere Le luci Incontri Festival Vi dà appuntamento Al prossimo Incontro Ma chiediamo Ancora Un ultimo Atto Oracolare Ad Antonio Bilò Canella Per viaggiare Ancora un po' Con lui In questa Straordinaria Avventura Dello Spirito E siamo tutti Dei consultanti Fondamentalmente A Delfi I consultanti Interrogavano La Pizia Per conoscere Il pensiero Di Apollo A Dodona I consultanti Interrogavano La Quercia Perché Zeus Liquidasse Nell'intrigo Degli Dei L'angoscia Del consultante Non sorge Dal dubbio Se occorra Un no Sacrificare L'angoscia Sorge Dal dubbio Di sacrificare Al Dio Sbagliato Diamo la voce Ad un maschietto Adesso Chiudiamo Chiudiamo Con Massimiliano È giusto così Quattro Femminucce E un maschietto Numero sei Numero sei Dice Massimiliano Al nostro Oracolo Antonio Pillo Canella E dice una cosa forte Massimiliano Massimiliano dice L'essenzialità Del vuoto La luce Dell'abisso L'essenzialità Non è una cosa forte La luce L'essenzialità 我們 Il Il E Molro La Str storms Pil No, 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 no. 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 No, 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 no. E' inutile che vi agitate. E' inutile che vi agitate, che vi agitate, che vi agitate. La possibilità che un corpo scuro impatti in questo momento sul nostro universo e determini le infinite propagini di quello che sarebbe stato lo svolgimento della storia, cambiando e cancellando in un secondo. Questa possibilità è scritta nelle pieghe della mia mano. E io te la sto mostrando finché tu la legga! Il tempo non regala assolutamente niente. E tutte le tracce sono state lasciate. Io avrò la soddisfazione di chiudere il cerchio. Dove sei stato tutto questo tempo? Dove sei stato tutto questo tempo? Dove sei stato tutto questo tempo? Avevamo un incontro da fare. Ma io non ricordo più nulla. Non mi ricordo più nulla. Io non ricordo più nulla. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Una frase che lui ha detto in questo suo rievocare in qualche modo una poesia ancestrale, una poesia prescritta che è sempre esistita e che dobbiamo soltanto forse avere il coraggio e la forza di riprendere. Il tempo ci canterà una canzone, il tempo ci canterà una canzone. Io vedo che Bilo mi fa segno di no, perché la concentrazione e gli atti poetici sono un lavoro incredibile che lui fa. E non mi resta che ringraziarvi, che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo incontro di Incontri Festival, che abbiamo domani con una donna, con una giovane cantante, una cantante che si chiama Barbara Eramo, che sarà con noi a raccontare tutte le lingue del mondo, perché è una cantante che parla e che canta in tante lingue diverse. Anche lei sarebbe stata oggi in silenzio, come noi tutti, qui da Incinque Artmonti, questa galleria che è un po' una sorta di speculum, potrei dire, una sorta di luogo delfico, proprio per le sue caratteristiche morfologiche, intrinseche. Io ringrazio Luigi Cinque, Monica Cecchini, Filippo e tutti quanti che oggi sono stati con noi in questo incontro straordinario. Ringrazio Antonio Bilo Canella, questo straordinario performer, sciamano, oracolo, tecnocratico, perché è dotato di strumenti elettronici. Quindi è una pizia dei giorni nostri. Questa è la cosa incredibile che mi ha folgorato quando l'ho incontrato. Sono rimasto veramente senza fiato. Grazie Bilo di averci regalato ben cinque atti poetici oracolari. Alla prossima. Grazie. 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 Grazie.